E buonasera all'affezionato pubblico dell'ente concerti di Oristamo. Da questa sera una serie di appuntamenti, la domenica, domenica in concerto a casa, per ricordare che la musica è una compagna di vita e che l'ente concerti, insieme a tante altre associazioni ed enti, è presente e sarà presente nelle vostre case per farvi compagnia, continuando e speriamo poi dal vivo la programmazione. Questa sera ho l'onore di cominciare queste serate avvalendomi della collaborazione del maestro Dimitri Matto e la Viola. Suoneremo le variazioni di Beethoven su un tema di Mozart esattamente dall'area di Pamina e Papagheno dal flauto magico, ricordando anche che quest'anno è il 250esimo anniversario dalla nascita di Beethoven. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i musicisti e amici che avranno inviato i loro video e che vi faranno compagnia le prossime domeniche. Con questo vi auguro una buona Pasqua e una serena rinascenza. Grazie. Grazie.